Ciao, questo è il Simone Tomasini Podcast e quella che segue è una conversazione con Giorgio, in Italia Giorgio Cerri. Giorgio è un medico e divulgatore sul tema dell'utilizzo degli psichedelici a scopo terapeutico. È l'autore del blog Psichia, nel quale elabora punti di vista inerenti alla psichiatria che non sempre combaciano con la narrativa mainstream. In questa conversazione parliamo di psichedelici e di come oggi si stia recuperando l'utilizzo ai fini terapeutici di queste sostanze da parte delle migliori istituzioni al mondo in ambito medico. Questo podcast ha lo scopo di fornire informazioni educative e di discutere in modo critico le questioni legate alle terapie con gli psichedelici. Non intende in alcun modo promuovere, incoraggiare o consigliare l'uso di sostanze psichedeliche in contesti diversi da quelli strettamente terapeutici. L'uso di tali sostanze dovrebbe avvenire esclusivamente sotto la supervisione di professionisti qualificati e in conformità con le leggi e i regolamenti locali. Gli ascoltatori sono incoraggiati a condurre alle proprie ricerche e a consultare professionisti qualificati prima di intraprendere qualsiasi tipo di trattamento o terapia. E con questa dovuta precisazione vi auguro un buon ascolto. Cosa sono gli psichedelici? Allora, gli psichedelici possiamo definirli come delle molecole che agiscono in una maniera diversa dalla maggior parte delle molecole psicotrope con le quali siamo abituati. Possiamo pensare agli psichedelici come molecole che svelano la mente e possiamo anche spiegare un attimo l'etimologia, siccome c'è stata un po' di controversia nei termini utilizzati per descrivere queste molecole. Allora, all'inizio venivano definiti fantastica in Germania, sì, le molecole fantastica, proprio per il fatto che inducevano queste visioni fantastiche, cioè letteralmente. Poi col passare del tempo hanno adottato un nuovo termine, psicotomimetico. Sì. Questa ha delle implicazioni come termine. Cosa significa? Praticamente psicotomimetico possiamo definirlo come una molecola che induce uno stato molto simile a quello della psicosi. In psichiatria o comunque nelle scienze a livello mentale si cerca di creare in modo artificiale uno stato patologico attraverso l'utilizzo di molecole o comunque di condizioni diverse dalla normalità. In questo caso gli psichedelici venivano utilizzati proprio per rindurre quello che noi pensevamo e che vedevamo che fosse simile alla psicosi, quindi psicotomimetico. Però la parte controversa era proprio che rendeva intrinsecamente patologico tutto quello che veniva indotto da queste molecole. Quindi è stato pensato di adottare un altro termine, allucinogeno, che è anche quello che viene utilizzato ad oggi a livello farmacologico, però anche questo ha un po' di carica negativa e spiego anche il perché. Allora quando si parla di allucinazioni si parla di percezioni di qualcosa che non esiste realmente. Qual è il problema? Il problema è che a livello psichiatrico la definizione di allucinazione implica il fatto che la persona o il paziente comunque che vede queste cose non è in grado di dire che quello che sta vedendo non sia reale. È reale per il paziente in quel momento. Esatto, esatto. Immagino che anche il medico debba trattarlo come reale. Esatto, esatto. Qual è il problema? Che negli psichedelici l'utilizzo di queste sostanze crea delle visioni, non allucinazioni. La differenza è proprio per il fatto che il paziente è consapevole che quello che sta vedendo è artificiale in un certo senso. E in più un'altra distinzione tra il termine allucinazione e visione è molto importante, è la questione del significato. Un'allucinazione è una visione che di per sé non ha significato, non ha rilevanza a livello emotivo per il paziente o la persona che le sta vedendo. Mentre la visione possiamo immaginarla come qualcosa che non esiste là fuori, che noi vediamo, percepiamo, che però ha una carica emotiva, ha significato per la nostra persona, per la nostra storia. Certo. Quindi questo è un po' il panorama della etimologia degli psichedelici. Quindi psichedelico perché è rivelatore della psiche, quindi l'idea è che in qualche maniera sono delle sostanze che rendono nota a noi stessi quelli che sono i contenuti più inconsci, più difficili da reperire dalla nostra psiche. Esatto, possiamo collegarlo in questo momento con la psicanalisi. Cioè in termine psicoanalitico quello che succede quando noi assumiamo psichedelici è una riemersione di materiale inconscio che normalmente sarebbe, si troverebbe in una posizione a livello mentale non conscia. Cerco di introdurre il concetto di processi primari e secondari di Freud che secondo me chiarifica un po' la questione. Sì. Quando pensiamo alla distinzione tra un bambino e un adulto sappiamo che a livello qualitativo qualcosa cambia, c'è qualcosa di netto, di differente tra un bambino e un adulto. Per capire, Freud ha cognato questi termini processo primario e secondario proprio per fare questa distinzione, nel senso immaginiamo i processi primari come qualcosa di crudo a livello mentale non elaborato, cioè proprio una modalità di funzionamento a livello mentale che prende quello che viene così com'è, senza aggiungere, senza stratificazioni. Col passare del tempo, nell'adolescenza, si creano queste prime stratificazioni che sono i processi secondari che hanno a che fare con un modo più analitico, più freddo, più cognitivo nell'approcciare il mondo e le proprie esperienze. Qual è l'analogia in questo momento? L'analogia è che vorrei fare tra bambini, tra psicotici e tra persone che assumono psichedelici. In tutti e tre i casi c'è un'alterazione nel caso della psicosi, c'è una disfunzionalità in questi processi secondari. Nei bambini non sono stati ancora sviluppati questi processi, mentre negli psichedelici questi processi sono stati attenuati farmacologicamente. Ed è per questo anche che quando pensiamo a una persona che prende psichedelici abbiamo questa visione di una persona che è meravigliata dal mondo che lo circonda e ti dà l'impressione di un bambino in certi sensi. Dici wow che bello questo, che bello quest'altro. Tutto diventa nuovo, tutto diventa sorprendente. E questa era comunque la questione dei processi primari e secondari. Se vuoi posso parlare un attimo del modello che spiega un attimo come funzionano gli psichedelici. Sì, sì, assolutamente, assolutamente. È già interessante l'idea che in qualche maniera lo psichedelico possa aiutare una persona a fare esperienza del senso di meraviglia, del vedere le cose, cose di tutti i giorni, cose banali, ma le vedi con occhi diversi. E poi sarà interessante ragionare sul perché questa cosa può essere benefica, che tipo di effetti positivi possa avere. Ok, la piccola premessa che insomma da fare è questa, che noi stiamo ragionando di psichedelici utilizzati in ambito terapeutico. Gli psichedelici più comunemente noti e diffusi possiamo dire sono l'LSD, la psilocibina. Possiamo fare una distinzione semplice tra psichedelici, scusate il termine, psichedelici classici tra i quali rientrano l'LSD e la psilocibina e psichedelici non classici tra i quali il principale ad oggi è l'MDMA. Ok. Allora, la distinzione è anche funzionale nel senso che i psichedelici classici agiscono attraverso un agonismo a livello dei recettori della serotonina, più nello specifico il 5HT2A, che è un recettore molto importante che poi comunque possiamo approfondire un momento. Mentre per quelli non classici possiamo pensare all'MDMA che in maniera indiretta agisce proprio sui recettori serotoninergici, ma non con un agonismo diretto ma con un rilascio di serotonina che raggiunge livelli abbastanza alti da poter mimare in un certo modo l'azione degli psichedelici classici. Ok. Questa è la distinzione degli psichedelici. Ci sono e ce ne sono altri che però forse sono meno utilizzati in terapia. Mi viene in mente la mescalina, l'ayahuasca, ci sono tutta una serie di altri. Sono meno studiati diciamo ad oggi. Quelli più studiati sono LSD, psilocibina, MDMA, anche chetamina. In questo momento quali sono? Chi è che sta studiando queste cose? C'è qualche autore? Quali sono le istituzioni che si stanno occupando? Perché credo che si tratti, adesso tu ci spiegherai meglio. Però stiamo parlando di sperimentazioni che vengono portate avanti dalle istituzioni che sono le istituzioni probabilmente al top, le numero uno al mondo. Tra le quali la principale appunto è la John Hopkins che è anche la sede nella quale è stata inventata l'evidence based medicine che è il paradigma più utilizzato nella scienza medica ad oggi. In più oltre alla John Hopkins potrei nominare anche l'Imperial College a Londra e anche il Licht Institute a Basilea. Però comunque ritornando alla questione di John Hopkins possiamo dire che il principale investigatore nei confronti degli psichedelici è Roland Griffith che è una figura molto importante nell'ambito del rinascimento psichedelico. Potrei raccontare un attimo di Roland Griffith? Assolutamente. Per chi non lo conosce Roland Griffith è uno psicofarmacologo con più di 300 pubblicazioni in ambito psicofarmacologico. Per rendere un po' l'idea servono tre pubblicazioni per prendere tendenzialmente il titolo di PhD. Ok. Tendenzialmente è un titolo che necessita dai due fino ai cinque anni per prenderlo. Possiamo capire anche la mole di lavoro di questa persona. Lui da 300 sotto il cinturone. Esatto. Ha 300 pubblicazioni. La cosa bella è che lui, lui stesso, era partito molto scettico nei confronti degli psichedelici. Però c'è stata un'esperienza che lui ha raccontato che ha cambiato un po' il suo paradigma. Allora, siccome studiava sostanze psicotrope, tendenzialmente droghe e in misura minore farmaci, lui cercava di capire che implicazioni avevano a livello dell'esperienza soggettiva queste molecole. Ed è successa una cosa bella. Praticamente quando lui ha fatto il primo esperimento con psilocibina, dopo due, tre mesi, se non sbaglio, un paziente che aveva... che era andato incontro a una sessione con psilocibina torna nell'istituto, bussa alla porta dello studio del professore Griffith e mentre stava parlando gli dice, prof, io penso a quell'esperienza ogni giorno da tre mesi. E lì qualcosa è cambiato nella sua mente. Perché diceva, tu quando prendi eroina, quando prendi... quando bevi alcol banalmente o PCP o altre droghe di qualsiasi tipo, non ti rimane tanto i giorni dopo. Certo, perché nell'immaginario collettivo c'è un po' l'idea, no, della droga che tu prendi e hai questa cosa magari orgasmica, questo sballo, questa cosa... ecco, gli psichedelici funzionano di maniera completamente diversa. Sono radicalmente... e qua forse c'è un problema terminologico, no? Perché noi mettiamo sotto il cappello droga tantissime cose. Senza fare distinzioni che devono essere fatte, secondo me. Certo, anche perché da un punto di vista di tossicità, capacità di generare assuefazione, di effetti, stiamo parlando di cose che sono radicalmente diverse, radicalmente diverse. Giustissimo, giustissimo. Possiamo parlare anche del fatto che gli psichedelici non possono indurre una dipendenza fisica. Innanzitutto perché c'è una tolleranza che viene sviluppata molto velocemente, quindi una somministrazione molto rapida una dopo l'altra degli psichedelici non crea gli stessi effetti. Poi l'altra questione, che è stata anche riferita dall'insieme di tutte quelle persone che hanno avuto questo tipo di esperienze, è il fatto che come esperienza soggettiva non è esattamente uno sballo. Nel senso che spesso, anzi, tante volte quello che cerchiamo di indurre nel paziente quando va incontro a queste sessioni è un'esperienza abbastanza difficile da essere costruttiva, non troppo da andare oltre. Quindi tendenzialmente un paziente fa una sessione con uno psichedelico e giorni dopo dice sono stanco fisicamente, però mentalmente molto più leggero. E non gli viene la voglia di ripeterlo. Perché tendenzialmente quello che succede nelle nelle sessioni è un confrontare la tua mente o meglio aspetti della tua mente che preferiresti non affrontare. Certo. Come sappiamo tutti è un po' difficile e stancante. Quindi secondo me ci sta fare la distinzione tra droghe da sballo e droghe o meglio sostanze che possono essere utilizzate a scopo terapeutico. Perché proprio la modalità a livello soggettivo cambia. Da un punto di vista proprio di tipo di esperienza è secondo me significativo il fatto che spesso ad esempio si parli di trip, no? Cioè l'utilizzo dello psichedelico viene associato al trip, che è un viaggio, il trip. Ed in effetti uno dei modi con i quali si può provare ad esprimere un'esperienza che è molto difficile da esprimere a parole. Credo che abbia i tratti dell'ineffabilità, no? Ineffabilità. Quindi ineffabile è qualcosa che non riesci mai compiutamente a spiegare a parole. Però una possibile analogia e quella del viaggio è interessante perché una possibile analogia potrebbe essere quella di dire è un po' come se tu fai un'esperienza, fai un viaggio, che ne so vai a vivere due mesi in una montagna, in un rifugio nel quale ti alimenti di bacche, vivi una vita completamente diversa, oppure vai a farti un viaggio in mezzo al deserto, oppure in mezzo all'oceano. Cioè vivi una vita per un po' di tempo completamente diversa da quello che è la tua vita quotidiana, che ti destruttura perché la caratteristica dei viaggi, quando noi viaggiamo e visitiamo altri paesi e altre culture, è che in qualche maniera vediamo il mondo da altre prospettive, no? E forse questa analogia viene utilizzata per spiegare un po' l'effetto dello psichedelico, che ha un po' questo effetto non tanto di sballarti, ma di farti vedere il mondo da una prospettiva completamente diversa. Tant'è che tante persone, quello che poi raccontano al termine, o quelli che sono gli esiti poi delle loro esperienze psichedeliche, possono essere ad esempio il fatto che uno smette di fumare e dici smette di fumare perché ho capito che faceva male e tu dici ma scusa lo sapevi già che faceva male. Sì, ma lì ne faccio esperienza, è diverso. E allora a me è sempre affascinato molto reggermi i resoconti che adesso vengono pubblicati, insomma c'è tanta letteratura fortunatamente a riguardo, di persone che in qualche maniera raccontano che fai esperienza di un qualcosa che è diverso rispetto al conoscerlo semplicemente, no? Ok, secondo me è il momento di introdurre il modello Rebus, che è quello che spiega in una maniera molto completa, abbastanza completa il modo in cui funzionano queste sostanze. Praticamente Rebus è il modello che è stato inventato da Carhartt Harris, che è un altro investigatore molto importante nel rinascimento psichedelico. Rebus sta per relaxed beliefs under psychedelics. E qua c'è anche da introdurre un altro concetto, quello del modello di predictive processing. Allora possiamo immaginare il predictive processing come un modo che spiega il funzionamento globale del cervello. E qui dobbiamo introdurre il concetto di due flussi. Abbiamo i flussi che vengono dal basso diretti verso l'alto, che sono l'insieme di tutte quelle informazioni che noi percepiamo attraverso i sensi. Quindi un po' quello che il mondo raggiunge noi. Sì. Mentre il flusso dall'alto è quel flusso che possiamo descrivere come quello che noi immaginiamo del mondo, di come funzioni e le leggi che ne descrivono il comportamento. E quindi possiamo capire che c'è una sorta di incontro tra questi due flussi. Quindi provo a vedere se ho capito. Da un lato ci sono le informazioni che arrivano in ingresso mediante i nostri sensi e dall'altro c'è cosa sono le nostre credenze, le nostre interpretazioni, le nostre opinioni, le nostre idee. Esatto. Modello generativo del mondo. Ok, quindi si incrociano questi due flussi. Esatto. E cosa succede? Normalmente noi prevediamo in maniera abbastanza corretta quello che succede nel mondo. Quindi anche nella maggior parte del tempo noi siamo inconsapevoli di quello che succede. Non è saliente. Anche il concetto di salienza è molto importante. Quello che è importante da capire nell'incontro tra questi due flussi è che in alcuni momenti possono non combaciare. C'è una discrepanza tra quello che io mi aspetto del mondo e quello che il mondo mi dice. Quello che succede... Possiamo immaginare questi raggi dei flussi che contattano l'uno con la controparte dell'altro flusso e vedono se sono d'accordo o no. Tendenzialmente si stringono la mano e dicono che siamo d'accordo su questa cosa. Quando c'è una discrepanza parte l'allarme. Quello che succede è che si libera un po' di dopamina che è anche il neurotrasmettitore principale della salienza. Succede che viene liberata dopamina e tu in un momento prima eri inconsapevole di qualcosa e poi pam sorpresa. Mettiamo... diamo un esempio. Io entro a casa, entro in casa e mi aspetto che le luci siano spente. Sì. Entro in casa e vedo che le luci sono accese. Ok. Pum. C'è un conflitto tra quello che io mi aspetto del mondo e quello che il mondo mi dice. È anche un po' un'interruzione di un automatismo. Esatto, esatto. Noi tendenzialmente per risparmiare un po' energia facciamo tutto in automatico. Quindi la consapevolezza potremmo vederla come un costo aggiuntivo che serve per risolvere queste discrepanze tra questi due flussi. Viene attivato solo nei momenti giusti. Il modello Rebus c'entra con il modello di predictive processing proprio perché ti dice che quando tu assumi i psichedelici tu riduci il grado di confidenza che hai su queste previsioni del mondo. Cioè noi abbiamo quelle che vengono definite priors. E una cosa importante da capire è che questi prior influenzano il modo in cui percepiamo le cose a prescindere da quello che percepiamo. Nel senso che spesso le nostre credenze aspettative dominano le informazioni che vengono dai nostri sensi. Per esempio... Sono più forti. Possono anche, diciamo, tenere in piedi delle realtà che sono realtà o meno che non sono nemmeno reali. Cioè possono tenere in piedi, diciamo, spiegazioni del mondo che magari vanno anche contro i fatti. Giustissimo. Pensiamo per esempio a una paziente anoressica che si guarda di fronte allo specchio e vede una persona sovrappeso. Anche se oggettivamente non lo è. Certo. Quindi la propria credenza di essere una persona sovrappeso è così forte che sovrasta tutte le informazioni percettuali che dicono esattamente il contrario. Certo. E vista da fuori questa situazione potrebbe essere banalizzata da una persona che dice a questa ragazza ma no ma sei magra non è vero. Però questa ragazza fa un'esperienza diversa. Esatto. Non è che, come dire, che sia scema, non è che abbia qualche menomazione a livello visivo. Fa semplicemente questo incrocio, diciamo, di esperienza a rendere l'esperienza completamente diversa. Esatto. Ha una mappa diversa dal territorio. Cioè possiamo immaginare in questo modo anche i flussi. Pensiamo la mappa, cioè il flusso dall'alto verso il basso e il territorio dal basso verso l'alto. E per ritornare al modello Rebus quello che succede è che noi riduciamo il grado di confidenza che abbiamo in queste credenze e succede che apriamo il cervello in un certo senso. Spiegherò anche il lato tecnico di cosa vuol dire aprire il cervello perché è una frase che viene utilizzata spesso. Sì. Apriamo il cervello a possibili informazioni nuove che ti permettono di aggiornare quella mappa. Wow. E se andiamo a pensare ad una mappa disfunzionale, ad un modo disfunzionale di interpretare la realtà che mi causa dolore, che mi causa solitudine, che mi causa disfunzionalità, l'idea di potersi liberare da questi pensieri, da queste credenze è... è un bel invito. È molto allettante come idea. Adesso a livello tecnico, lo spiego brevemente, quello che succede è che si va ad agire su quello che chiamiamo il filtro talamico. Sì, posso interromperti un attimo? Prima... Poi riprendiamo proprio dal filtro talamico. Per... Ti interrompo un attimo per dare un attimino una panoramica su... Perché tu hai nominato diverse volte il termine rivoluzione psichedelica, no? E brevemente volevo provare a dire perché stiamo parlando di rivoluzione psichedelica e perché stiamo parlando di terapie a base... su basi psichedeliche. E tu mi correggi, insomma, nelle mie precisioni, gentilmente. Però l'idea è che in qualche maniera tutto il mondo medico sta riscoprendo questi strumenti di potenziale che hanno un potenziale enorme. Poi ci racconterai di quanto impattano in maniera efficace, in maniera molto più efficace rispetto ad altre metodologie. Cioè, non è che siano meglio rispetto ad altre tipologie. Siamo proprio in un'altra categoria, no? C'è una... Un'efficacia che è pazzesca. E giusto perché la maggior parte delle persone, immagino, quando parliamo di terapia psichedelica, non abbiano nemmeno in mente, no? Di come possa svolgersi una sessione terapeutica da questo punto di vista. Magari se prima appunto di parlare del filtro talamico ci dici in maniera molto rapida... Immaginiamo di vederla, una persona che sta facendo una sessione terapeutica dall'esterno. Come... Dove viene fatta? Cosa vedresti? In che maniera? Cosa succede? Esatto. Come si svolge? Allora, se ci mettiamo nella stanza dove vengono fatte queste sessioni psichedeliche possiamo immaginare tendenzialmente un divano. Possiamo immaginare il paziente sdraiato su questo divano con una visiera che gli permette di essere un po' più introspettivo, quindi di isolarsi un po' dal mondo esterno. Possiamo immaginare un ambiente tendenzialmente caldo, caloroso, non freddo a livello visivo e anche di questo parleremo del set and setting, come influenza gli outcome di queste sessioni. E quello che vediamo tendenzialmente da fuori, dall'esterno, quando un paziente va incontro a queste sessioni, è che vediamo una persona che ci sembra... voglio scegliere bene le parole. Ti sembra che stia andando incontro a un viaggio vero e proprio interno che visto dal fuori non è molto comprensibile. Ti dà l'idea di un rollercoaster emotivo. Non è raro vedere un paziente durante queste sedute piangere in modo catartico, proprio quel pianto brutto, se possiamo dire, non quello bello, romantico da film. Proprio un qualcosa di viscerale, qualcosa di... di primordiale, di basico, non cognitivo, freddo, ma qualcosa proprio umano. Questo è quello che possiamo vedere dall'esterno, quando un paziente fa una seduta psichedelica. Ok, quelle persone, quindi questi medici che sono al suo fianco, che gli stanno vicino, che lo rassicurano, che in qualche maniera si occupano quando vedono che ci sono dei momenti un po' di ansia, di situazione... Che possono fare da contenitore. L'idea del contenitore è molto importante, perché come dicevo prima, vengono a mancare quei processi secondari di cui parlava Freud, che fanno proprio da contenitore per queste emozioni crude, viscerali, che alcune volte possono essere troppe. Possono essere non contenibili dal paziente. Quindi quello che facciamo noi come figure mediche, sia dal punto di vista psichiatrico che psicologico, è fare da contenitore. Questo a livello operativo vuol dire prendere la mano del paziente e ricordargli che tutto andrà bene. Tutto andrà bene, non c'è nulla di cui preoccuparsi, bisogna lasciarsi andare e fidarsi del processo. Anche questo è molto importante, ma che comunque rientra nel set and setting, di cui se vuoi possiamo parlare. Vai, assolutamente. Ok, allora, quando facciamo questo tipo di trattamento abbiamo le variabili farmacologiche che utilizziamo, che influenzano l'outcome, e abbiamo le variabili extra farmacologiche. Tra quelle farmacologiche possiamo pensare al farmaco utilizzato, alla modalità di somministrazione, alla posologia e così via. Quello che è importante, che spesso va sottovalutato, rappresenta appunto i fattori extra farmacologici, tra cui appunto il set and setting. Cosa intendiamo con set and setting? Con set intendiamo quell'approccio che ha il paziente fino al momento prima di prendere lo psichedelico, cioè lo stato mentale nel quale si trova. E perché dovrebbe essere importante? Giustamente perché lo stato iniziale influenzerà anche la direzione che prenderà questo viaggio. Quindi cercheremo di creare un set ottimale, se possibile, e questo si fa tendenzialmente con delle sedute, tra 6-8 sedute preparatorie, giusto per permettere al paziente di entrare in quello spazio mentale che renderebbe questa esperienza costruttiva. Dove si sente a suo agio. Esatto. Creare un rapporto di fiducia con le persone che saranno al suo fianco, parlare delle problematiche principali che lo preoccupano, quali sono i temi ricorrenti e spiegargli un po' anche quello che si può aspettare da questo viaggio, giusto per renderlo un po' più tranquillo, siccome è un'esperienza molto lontana dal nostro stato ordinario di coscienza, dalla nostra quotidianità. Certo. Questo è il set. Mentre il setting è l'ambiente nel quale si esplica questa sessione psichedelica. Questo è stato scoperto, almeno l'influenza del setting è stata scoperta un po' in retrospettiva, nel senso in Italia negli anni 50 e 60 si facevano delle sedute psichedeliche negli ospedali psichiatrici. Veramente? In Italia? Sì. Ah, ma dai. L'Italia è stato uno dei centri principali della ricerca psichedelica in Europa. Veramente? Sì. Pazzesco. Non l'avrei mai immaginato. Pochi lo sanno. Non l'avrei mai immaginato. E cosa hanno visto? Praticamente vedevano questi pazienti che sotto effetto di psichedelici reagivano magari male, cioè non avevano degli outcome buoni. Poi in retrospettiva si è visto un po' l'ambiente nel quale succedevano queste sessioni. Ora, tu immaginati prendere queste sostanze in un ambiente ospedaliero psichiatrico, quindi magari ai tempi era ancora un manicomio prima di Basaglia, no? Con delle mura bianche, luce fredda, lettino d'acciaio di quelli proprio scomodi. Sì. Con cinque medici qua, tre infermieri qua, due studenti di medicina magari tirocinanti. Che ti osservano come se fossi un animale in gabbia. Esatto. Un'esperienza infernale. Infernale. Cioè i presupposti per un'esperienza infernale. Per una psicosi. Per una psicosi, certo. Cioè io mi immagino di andare tranquillamente in psicosi paranoide. Certo. Se tu sei in quella condizione dove tutti ti guardano sospettosi, tipo vediamo come reagisci adesso. Certo. Mamma mia. Figlio, tutto questo un po', adesso non voglio aprire parentesi che non riusciremo a chiudere, ma un po' di quel dualismo mente-corpo che ha portato per molto tempo tutto il mondo, diciamo, medico, a trascurare completamente gli effetti della mente appunto. Esatto, la parte psicologica. Come ti senti delle emozioni. Ok, quindi in Italia nascevano queste sperimentazioni qua, immagino disastrose, oppure almeno con dei risultati molto altalenanti, perché se non curi bene il setting… Non molto, in effetti. No, no, avevano anche… Avevano buoni risultati. Sì, sì, sì. Ah, ok, interessante. Però tutto è stato bloccato dopo col proibizionismo, col caso Timothy Leary, col Rave Act e così via. Ok. Quindi c'è stato un blocco della ricerca clinica tra gli anni 70 e gli anni 2000, che poi è stato ripreso da Roland Griffith, di cui parlavamo prima, che ha preso appunto il grant dall'FDA e dobbiamo anche dire che prendere un grant dall'FDA per studiare gli psichedelici dopo quegli anni di proibizionismo vuol dire tanto. Il grant significa il permesso di poter sperimentare, è l'FDA e la Food and Drugs Administration, che è l'ente governativo statunitense, che decide di fatto chi può e chi non può. Esatto. Quindi sì, c'è stato un coraggio pazzesco, un'apertura mentale pazzesca e anche una competenza enorme, perché se l'FDA è riuscita… Per convincerli ce ne vuole. Per convincerli a smantellare quello che è uno stigma fortissimo che ancora oggi vive, sopravvive, perché tu pronunci la parola LSD e le persone… Si spaventano. Sì, credo che per la… credo che… non so se esagero, però credo che per il 95% delle persone dire LSD e dire eroina grosso modo non ci sono grandi differenze. Anzi, potremmo dire che l'LSD viene visto peggio, nel senso quello è pazzo, mentre eroina quello è semplicemente drogato. Sì, sì. E quindi c'è questo stigma fortissimo che nasce, visto che siamo entrati… entriamoci qua, poi… perché è affascinante, no? Hai parlato di Timothy Leary, cosa… cosa è successo? Che anni erano? Allora, eravamo negli anni 60 in America, dove si stavano svolgendo i primi esperimenti a livello accademico in ambito di psichedelici e in essenza la situazione è uscita un po' fuori dal controllo. È partita con delle buone intenzioni, però la modalità nella quale è stata svolta questa ricerca non è stata ottimale e abbiamo visto anche i risultati, quindi un blocco di 30 anni di progresso. Possiamo definire il caso Leary come sindrome psichedelica, nel senso una persona che entra in quello spazio mentale che ti viene permesso dall'assunzione di queste sostanze, ma non ne esce totalmente, quindi rimane parzialmente lì. E questa ha implicazioni poi ovviamente a livello comportamentale, nel modo in cui vedi quello che succede, le situazioni attorno a te, e il modo in cui approcci problemi pragmatici, se possiamo dire. Anche a livello legislativo. Cioè Leary è arrivato a un punto in cui diceva che l'LSD avrebbe cambiato il mondo. Diceva non è il massimo che vorresti dire se vuoi convincere il mondo che quello che stai facendo è una cosa sana, razionale. Sì, anche perché poi Leary aveva un'indole particolarmente ribelle. Quando parlava di cambiare il mondo lui lo sosteneva perché era fortemente convinto che il mondo era anche critico nei confronti del mondo, no? E quindi un po' a me io ogni tanto provo ad immaginare mentalmente, no? Quello che deve essere successo. Ed è una storia che racconta di fatto di persone che scoprono queste sostanze, scoprono gli effetti incredibili che hanno queste sostanze nel destrutturare, nel farti vedere il mondo da punti di vista completamente diversi. Sono psicologi queste persone, quindi come dire ne vedono da subito il potenziale enorme, ma si lasciano trascinare da questa loro scoperta fino ad arrivare al punto di farne un simbolo della controcultura, dire tutti quanti dovrebbero utilizzare queste sostanze, no? O un atto politico. Sì, e lo fanno partendo da un qualcosa di bello che avevano vissuto, ma lo trasformano in una sorta di strumento quasi ideologico per cui poi tante persone li seguono e molte di queste persone che li seguono e vengono utilizzate queste sostanze senza appunto questo setting terapeutico, si potrebbe dire che non viene neanche rispettata la sostanza forse. E se tu non rispetti la sostanza ti fai del male, perché è una sostanza estremamente forte. Come tutte le sostanze che modificano gli stati di coscienza, anche l'alcol, noi stiamo vendendo una birra, anche la birra se non la rispetti ti fai del male. Posso citare Paracelso che praticamente dice che è la dose che fa il veleno. Ok, esattamente. Nulla è, ovviamente entro certi limiti, nulla è intrinsecamento è un veleno, tutto c'entra con la dose. Anche perché poi queste sostanze di fatto nascono in contesti terapeutici. L'LSD viene scoperto per caso, no? Se non ricordo male. Sì, quando lavorava alla Sandoz. È un bel caso quello dell'LSD che lui stesso definiva il mio bambino difficile. Praticamente stava facendo degli esperimenti in laboratorio e per sbaglio gli è caduto, non so, due o tre gocce di LSD. Però per l'LSD basta davvero poco per avere un effetto visibile. Cioè due o tre gocce è una quantità... Sì, è tantissimo. Enorme, è enorme. Anche perché quando parliamo di dosaggio terapeutico dell'LSD parliamo di microgrammi. Quindi... Ok. Un millesimo di un milligrammo. Ok. Quindi basta davvero poco. E lui sono cadute due o tre gocce e quando stava tornando a casa in bicicletta ha visto che... Ha visto cose. Alcune cose, la mappa non combaciava col territorio. Pazzesco, pazzesco. E poi... Cosa deve aver pensato. Riflettendoci ha connesso i punti, ha capito che c'entrava con quelle due o tre gocce e quindi è partito un po' il capitolo dell'LSD. E la psilocibina, quella che è l'elemento chimico, non so se si è giusto chiamare l'elemento chimico... Il principio attivo. Il principio attivo, è giusto, che si trova all'interno dei cosiddetti funghi e leucinogeni, veniva utilizzato da curandere, da sciamani. Sciamani. Cioè era uno strumento che veniva utilizzato per fini terapeutici. Esatto. Tant'è che quando gli occidentali scoprono queste sostanze e in qualche maniera ne rimangono entusiasti, queste persone, ce n'è una in particolare che si chiama Maria... Sabin. Maria Sabin, esatto. Lei prende paura da come gli occidentali trattano questi strumenti, perché dicono ma questi qua vanno usati per guarire le persone, non vanno usati per fare quello che state facendo voi, no? E quindi è la storia di uno strumento che viene scoperto, d'accordo, di grandissimo, con un potenziale enorme, ma che viene scoperto da noi occidentali e viene utilizzato senza... Decontestualizzato. Esatto. Questa è la parola chiave, secondo me. Decontestualizzato. E questo crea poi tutti i problemi di abusi e di scetticismo del mondo, diciamo, non medico... Occidentale. No, ma delle persone all'interno del mondo occidentale, nasce lo scetticismo delle persone che non conoscono queste sostanze nei confronti delle sostanze stesse. Perché guardano e dicono guarda che cosa ha prodotto, guarda quanti college dropouts hanno creato, no, guarda quante situazioni... Guarda le conseguenze. Guarda le conseguenze, che però io il ragionamento che faccio è quello di dire, beh, ma se tu vai in un ospedale, apri un armadietto di farmaci, comincia a prendere cosa a caso... Non sorprenderti se succede un casino. E poi muori, voglio dire, non sorprenderti, no? Ma il problema allora è quello che hai preso dall'armadietto o il problema sei tu? Esatto. E quindi questa è la grande... E qui entriamo un po' anche nella questione di decriminalizzazione, depenalizzazione e medicalizzazione degli psichedelici. Nel senso, gli psichedelici sono degli strumenti che vanno utilizzati esclusivamente a scopo medico o possiamo lasciare spazio anche alla ricreazione? Perché possiamo dire questo, che a meno che tu abbia una diagnosi psichiatrica formalizzata, la linea che divide la fisiologia, cioè la sanità, dalla patologia diventa sempre un po' più subdola. Quindi magari un... una persona che ha dei problemi a livello mentale che non raggiungono il livello di una diagnosi vera e propria psichiatrica beneficerebbe lo stesso dagli psichedelici. Quindi bisogna anche un po' capire a chi diamo accesso o a chi no. Dobbiamo decidere noi a chi dare accesso o no per queste sostanze. È un po' da capire. È un grande tema. Non abbiamo... non abbiamo conclusioni. Diciamo che a mio avviso una possibile visione potrebbe essere quella non tanto legata al... a chi deve determinare il bisogno, ma dovrebbe forse essere legata a il come vengono somministrati. Cioè secondo me la grande discriminante non è tanto che io come nazione, come governo, devo decidere se tu hai bisogno oppure no. Perché questi potrebbero essere strumenti per te per attuare dei processi di guarigione profonda, anche se sei magari una persona perfettamente funzionale all'interno della società. Però potrebbe essere un modo per te per scoprire te stesso. E l'oracolo di Deco diceva... La nostra società che al 50% si basa su quello che ci deriva dalla Grecia classica e diceva gnotis e uton. Cioè all'interno una delle cose più importanti è riconoscere se stessi. Allora uno strumento che riesce a farti scendere all'interno del tuo inconscio in maniera non troppo dissimile da quello che possono fare alcune forme di meditazione di cui ci racconterai più avanti. Allora anche qua l'uso... la parola ricreativo se tu ci pensi è strano come talvolta venga demonizzata perché qualcosa... un'esperienza ricreativa. Cioè che ti ricrea. Non ci avevo pensato, sì. Perché dovrebbe essere un'esperienza negativa? Allora io credo che sia giusto unire la libertà dell'individuo con la sicurezza e forse la discriminante è quella. È semplicemente quella di dire chi pensa di poter beneficiare di queste terapie che sono state collaudate, sperimentate dalle migliori istituzioni al mondo che hanno mostrato la loro sicurezza se condotte in determinate maniere e chiunque senta di averne il bisogno lo può fare a patto che lo facciano in determinati contesti. Rispetti la molecola. Sì, per cui ad esempio io personalmente non sarei d'accordo al fatto che chiunque possa accedere liberamente a queste sostanze ma che chiunque possa accedere a un programma terapeutico... Ok, giusto. Perché anche io sono d'accordo. Cioè è la modalità alla fine, non è la molecola intrinsecamente che determina l'outcome, è proprio l'intento e il modo in cui prendi quella molecola. Esatto. E si stanno prendo tante parentesi ed è veramente... Io ti ringrazio ed è veramente affascinante avere l'occasione di parlare con te di queste cose. Volevo però, visto che abbiamo parlato di terapia, diciamo due cose su questo. Quindi, cos'è che rende terapeutico lo psichedelico? Cioè perché le persone... E che cosa raccontano le persone? È un'esperienza importante per le persone, quelle che fanno con i psichedelici? E che cosa c'è di terapeutico? Allora, innanzitutto c'è da dire che queste esperienze sono state descritte dalle persone che le hanno avute come tra le più importanti della loro vita. Cioè lo stesso gradino della nascita di un figlio, del matrimonio o della morte di una persona vicina a loro. Per dire che va oltre la quotidianità. Cioè questo andare oltre la quotidianità è un tema ricorrente negli psichedelici che a quanto pare risponde a un bisogno nostro molto profondo. Cioè noi cerchiamo, magari anche in maniera inconscia, di andare un po' sempre oltre. Cioè la quotidianità spesso non è sufficiente. Cioè, per dire, il modello materialistico riduzionista che è il paradigma dominante nel mondo occidentale è un paradigma decontestualizzato dove mancano le connessioni tra i pezzi. Cioè uno può pensare a se stesso come un insieme di organi, di molecole, un insieme di ossa, di muscoli che girovaga in questo sasso volante in mezzo all'universo senza una direzione propria, senza nulla di... senza un nesso causale tra le cose. E questo, da quello che abbiamo visto, non fa bene alla salute mentale. Perché è una storia, diciamo, oppressiva. È una narrativa oppressiva. Non ti libera esattamente. Quello che ti libera è una visione delle cose connesse tra di loro. Una contestualizzazione di quello che viviamo. E proprio per questa ragione gli psichedelici aiutano. Per quanto riguarda il perché sono terapeutici gli psichedelici, ci sono tante visioni, tanti modelli. Però io ritornerò sempre al modello Rebus, che è quello che mi convince personalmente di più. è un lasciare entrare informazioni nuove che aggiornano mappe vecchie. Mappe tendenzialmente che virano verso l'egocentricità. Sì. Nel senso, quello che ci permette di sopravvivere, dal puro punto di vista egocentrico, non è esattamente sempre uguale a quello che ci fa vivere bene. C'è una differenza qualitativa tra le cose, magari non quantitativa. E spesso quello che succede è che più passano gli anni, più noi diventiamo rigidi nel modo in cui viviamo, nel modo in cui interagiamo con il mondo, con le persone, con noi stessi. Ci creiamo quelle abitudini e quelle ci teniamo per tanti anni. Infatti, ritornando al recettore di cui parlavo all'inizio, il 5HT2A, che è il recettore nel quale agisce la serotonina, questo recettore si trova a livello della corteccia prefrontale, tendenzialmente ha una concentrazione più alta lì, ed è anche la stessa sede dove avvengono le concezioni più astratte di più alto livello a livello mentale. Ok. E si è visto che questa concentrazione di recettori di questo tipo diventa sempre più bassa col passare degli anni, che è in linea, quindi, con l'idea che noi diventiamo sempre più rigidi, più fissi nella nostra direzione. Entriamo in una sorta di binario dal quale non possiamo più uscire. E qui vorrei introdurre il modello del Dynamic Landscape, cioè un panorama energetico, che è un altro modo per vedere il modo in cui funziona la mente. Possiamo immaginare la nostra mente come un insieme di picchi, di montagne e di... non mi viene il termine. Avvalamenti. Avvalamenti, esatto. Cosa rappresentano questi avvalamenti o queste montagne? Rappresentano magari comportamenti o modalità di essere che noi vogliamo raggiungere e comportamenti e modalità di essere dalle quali vogliamo scappare. Ok. È molto bello perché ci sono tante analogie in corso. Nel senso, immaginiamo un paziente tossicodipendente, che è da anni che riesce a soddisfarsi dalla vita solo attraverso la somministrazione di una droga. Il suo panorama energetico sarà praticamente un avvalamento enorme. Solo quello. Nessun altro. Infatti lui si sentirà a livello soggettivo bloccato. Dice non vedo il panorama, non vedo l'orizzonte, non vedo una via d'uscita, perché anche a livello energetico non lo vede. È lì in basso. Per uscire da quell'avvallamento ha bisogno di tanta forza e spesso la forza, intesa come forza di volontà, non basta. Ora, il limite tra quello che puoi fare con la forza di volontà e quello che non puoi fare con la forza di volontà è molto subdolo. Però rientra sempre in questo modello. Nel senso, se c'è qualcosa che applana questo avvallamento, noi facilitiamo la fuoriuscita da questo avvallamento. Ed è proprio quello che fanno gli psichedelici. Loro applanano questo panorama. Ti rendono più plastico il panorama energetico e tu puoi uscire un po' più facilmente da queste modalità di comportarsi e di esistere. Che viene fatto appunto attraverso un'azione sia a livello biologico, proprio con un aumento del rilascio di BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor, che è una molecola molto importante. Per spiegarla un attimo brevemente, è la stessa molecola che viene aumentata dall'utilizzo degli antidepressivi. È quello che media la plasticità, la neuroplasticità. Che è anche quella che media l'adattamento a un ambiente diverso. C'è la possibilità di adottare nuovi comportamenti di fronte a condizioni diverse. Lasciare schemi vecchi, adottare schemi nuovi. E il BDNF è aumentato anche dalla somministrazione di psichedelici. Quindi possiamo immaginare lo psichedelico come un farmaco che agisce sia a livello biologico, proprio come farmaco, sia a livello mentale. E a livello mentale abbiamo tutto quell'insieme di trip di cui abbiamo parlato prima. Sì, mi viene... Per entrare ancora meglio nell'aspetto mentale, mi sembra che alcune esperienze ricorrenti, cioè che vengono raccontate tipicamente da persone che fanno questo tipo di esperienze, che sono, che si sovrappongono in parte ad esperienze diverse, come la meditazione, piuttosto che l'esperienza mistica. Ecco, ci sono alcuni punti in comune. Provo a dirli, quelli che mi sembra siano i più ricorrenti, anche qua, però magari dimmi se effettivamente sono ricorrenti oppure no. Mi sembra che ci sia tendenzialmente una sensazione di abbandono dell'ego, di superamento dell'ego. Quindi non ho più la sensazione di essere un'entità isolata, ma in qualche maniera mi sento in contatto con... Le persone arrivano a dire con l'universo. Sì. O con qualche entità, con qualche forma superiore di vita. C'è chi appunto parla di l'universo, c'è chi parla di Dio, però è l'idea che il mio ego in qualche maniera inizia a sbriciolarsi, perde i confini, d'accordo? Non so nemmeno più chi sono in quei momenti lì, d'accordo? L'ego death famoso. Il famoso ego death, che significa morte dell'ego, che è facile capire come nel contesto sbagliato sia terrificante, no? Percepire che tu non esisti più. Quindi questa mi sembra essere un'esperienza ricorrente. Mi sembra essere un'altra esperienza molto ricorrente, che è quella che è, una di quelle che a mio viso affascina di più, l'esperienza del vivere, il morire, ma questa morire non si vive in maniera negativa. È come se tu morissi, ma fai esperienza della morte come di un qualcosa di estremamente naturale, di inserito all'interno del ciclo dell'esistenza e in qualche maniera accetti il fatto di morire. Noi non abbiamo detto prima, mi pare, però sono terapie che vengono utilizzate per trattare spesso persone che hanno stati di depressione molto avanzate, anche persone che hanno condizioni terminali, d'accordo? Persone che sono disperate. Come i pazienti oncologici, i terminali. Esatto, assolutamente. E quindi c'è questo superamento della paura della morte, o perlomeno il tuo attenuamento. Cambia il rapporto che hai con la morte. Non è più qualcosa di spaventoso che implica la tua fine, ma è parte di qualcosa molto più grande, un panorama molto più grande che va oltre il tuo semplice egocentrismo. E ritorniamo allo stesso discorso dell'egocentrismo, di come cerchiamo di sorpassarlo. Cioè, tendenzialmente, parliamo per esempio di psicoterapia. Quello che si fa è ampliare la modalità di essere di un paziente che gli permette di essere meno egocentrico e più connesso con ciò che lo circonda. Ma lo fa in una modalità molto più lenta di quello che lo fanno i psichedelici. Stessa cosa anche con la meditazione. Cioè, avviene un progressivo, una progressiva decostruzione del proprio egocentrismo. Cioè, è come se si sgretolasse piano piano. Qui c'è da dire possiamo introdurre anche il rischio dei psichedelici perché è davvero potente come esperienza perdere il proprio ego. Noi tendenzialmente non siamo consapevoli di quanto l'ego ci salvi da emozioni negative in un certo senso. Ci si sente nudi senza ego. Nudi a livello mentale. Cioè, scoperti. Ed è anche per questo che per esempio un processo di psicoterapia o psicanalisi lo fa in modo molto graduale con una sorta di farmaco. Decostruiamo piano piano. Vediamo come rispondi. Se rispondi in maniera molto spaventata riduciamo un po' la dose. Cosa che non puoi fare in modo così calibrato con gli psichedelici perché può succedere. Ovviamente hai dei mezzi farmacologici per fermare il trip. Questi ci sono sempre nei momenti in cui si va oltre. Però diciamo che con gli psichedelici succede in modo molto più intenso questa decostruzione dell'ego. E quindi il ruolo del medico che sta lì e assieme a te fa questo passaggio è essenziale perché in quei momenti di alta confusione di ansia non hai ancore se non quel medico oppure quello psicologo che ti sta seguendo che capisce se è il momento di intervenire oppure il momento di lasciare il viaggio che continui. Però con la presenza di personale adeguatamente formato di questo tipo i rischi sono molto bassi è possibile avere rischi molto bassi credo che tipicamente quello succede che comunque puoi avere delle situazioni che generano un po' di ansia ma è un'ansia che si riesce comunque a contenere entro livelli normali. E qua mi vengono in mente due grandi citazioni che vengono entrambe da Jung un grandissimo studioso del profondo dell'inconscio della psicologia proprio del profondo profondissimo e il primo aforismo è quello in cui lui dice l'unica via d'uscita è attraverso e gli psichedelici ti fanno andare attraverso ti fanno andare attraverso i tuoi demoni attraverso le tue paure attraverso i tuoi blocchi e l'altro aforisma che è un aforisma che va a bilanciare questo è quello Jung diceva fai molta attenzione alla conoscenza che non ti sei meritato era la famosa frase che ha detto ad Huxley tra l'altro con una lettera ah ecco questo mi sfuggire perché Huxley che è l'autore di Brave New World oltre che le porte della percezione le porte della percezione è stato uno dei primi occidentali intellettuali a discutere che ha sperimentato forse ha coniato lui il termine psichedelico mi viene il dubbio no è no è un'altra persona è uno psichiatra statunitense non mi ricordo ok e lui quindi Jung disse questa cosa a Huxley probabilmente perché sapeva che Huxley utilizzava la mescalina Jung era molto inclinato ad un processo graduale per non sovvertire molto gli equilibri certo perché sapeva immaginazione attiva esatto esatto molto graduale vedi come rispondi torna nella tua stabilità gli psichedelici sono un po' più sono più diretti più diretti e qua e qua si spiega anche perché tanto tante persone sono scettiche nei confronti dei psichedelici soprattutto persone che vengono dal mondo della psicanalisi della psicologia analitica piuttosto che della meditazione proprio perché quello che loro pongono in essere il problema dicono è che è troppo immediato il tempo è troppo ristretto e però allo stesso tempo una contro argomentazione questo potrebbe essere quella di dire ma non è a mio avviso scontato e non è a mio avviso nemmeno così evidente da un punto di vista empirico che tutti quanti noi abbiamo la stessa capacità di praticare l'immaginazione attiva piuttosto che di praticare la meditazione questione di accessibilità e c'è un problema di accessibilità che è enorme gli psichedelici a questo punto di vista garantiscono il problema se si fa un calcolo proprio di tempo richiesto per avere un miglioramento a livello clinico gli psichedelici per quanto mi riguarda per quello che so ad oggi hanno un'efficacia enorme cioè mi ricordo gli studi sull'MDMA nell'uso per il PTSD il disturbo della stress post-traumatico spesso venivano usati con i veterani giusto? di guerra sì e parlavano di risultati immediati e duraturi cosa che per noi occidentali se posso ci sembra proprio una fiaba qualcosa irreale ti parte subito lo scetticismo dici non ci credo certo perché siamo abituati ad altri approcci per esempio pensiamo anche al modello farmacologico odierno in psichiatria dove implica l'assunzione di uno psicofarmaco giornaliero che tendenzialmente cerca di sopprimere quei fenomeni mentali che riducono la funzionalità del paziente mentre con gli psichedelici uno espande questi processi finché coglie quello che doveva cogliere se posso dire e che poi ha anche un incremento della funzionalità quindi direzioni opposte che portano allo stesso outcome questo è molto interessante tra l'altro sì quindi risultato dell'utilizzo degli psichedelici è quello della modifica dell'ampliamento della propria mente dei propri schemi cognitivi dei propri schemi mentali e questa apertura mentale può creare un disorientamento d'accordo perché sono meno certezze d'accordo ma allo stesso tempo alcune forme più difficili di depressione possono essere descritte almeno in parte come il fossilizzarsi su schemi di pensiero rigidi ricorrenti giro il microfono se non ti sentiamo scusami e quindi immaginiamo appunto il potenziale di uno psichedelico di creare questo un'altra cosa che ho notato e qua volevo capire un po' se anche tu la noti ricorrere così tanto in letteratura mi sembra che un altro tratto caratteristico sia un senso del sacro nel senso non di aderire ad una religione in particolare ma in qualche maniera le persone raccontano di vivere una di avere di sperimentare la sacralità della vita e dell'esistenza la sacralità anche dei piccoli gesti ci sono persone che raccontano dicono mi sono reso conto che anche lavarsi è sacro anche lavarsi le mani è un gesto sacro anche mangiare anche parlare con un amico anche parlare e allora anche qua l'argomento del sacro è un argomento che sta al centro di tante mie riflessioni e mi chiedo quanto sia un approccio che possa essere utile a tutti quanti noi non solamente chi è diagnosticato una dimensione più sacra dell'esistenza qualcosa che va non religiosa sì ma in qualche maniera di un rispetto profondo per le cose per i momenti per le relazioni soprattutto in un'epoca nella quale noi fagocitiamo tanto tante persone il problema uno dei problemi di persone che fanno terapie psichedeliche è che in qualche maniera possono ritornarsene con dei valori molto diversi rispetto a quelli che avevano prima il tema del cambio di personalità dopo l'esposizione dopo la somministrazione di psichedelici nel quale si è visto che aumenta molto l'apertura che è uno dei cinque fattori che utilizziamo per descrivere la personalità di una persona secondo il modello big five che è quello più predittivo è il migliore quello che ho utilizzato sì però vorrei aprire questa parentesi sull'apertura che non è intrinsecamente buona anche qui la dose fa il veleno perché troppa apertura può essere nociva nel senso credere a qualsiasi cosa senza utilizzare filtri giusti ti può portare a credenze che non sempre sono ottimali certo irrazionali esatto il logico pensiamo per esempio appunto al caso Liri dove troppa apertura porta alla credenza in argomenti o linee di pensiero che non sono che non combaciano molto con la realtà e quindi possono causare danni quindi anche questo va dosato l'apertura certo e un altro problema dell'apertura mentale è che quanto tu più sei aperto mentalmente quanto più rischi di essere meno inclina all'azione proprio perché diventi molto più riflessivo di riponderi molto di più accetti mentre viceversa lo schema stringente è più facile che ti spinga l'azione che poi magari è un'azione ripetitiva e disfunzionale c'è anche questo possiamo dire questo che quando quelle credenze di cui parlavamo nel modello Rebus sono rigide hanno tanta confidenza associata ad esse l'azione è molto più più facile diciamo quando io lascio spazio all'ambiguità non hai più quelle certezze alle quali eri abituato prima cioè c'è un momento di apprendimento nel quale l'azione magari può diventare un po' più difficoltosa però lascia spazio a una crescita mentale che poi ti porta all'azione corretta per quanto sia difficilmente definibile come come concetto quello dell'azione corretta cosa fa star bene una persona cosa devo fare certo questo per la la questione dell'apertura dell'azione un altro tema che si lega bene al tema appunto del degli psichedelici utilizzati come terapia è il tema del ma chi è il malato nel senso che ci sono diverse come suggeriscono diverse filosofie diversi credi religiosi diverse approcci alla vita in buona sostanza forse non è così appropriato dividere il mondo tra sani e malati nel senso che ciascuno di noi si trova a vivere questa esperienza che nessuno di noi sceglie perché se guardiamo la nostra esperienza di vita un po' più dall'alto noi veniamo al mondo in contesti che non scegliamo non scegliamo di venire al mondo impariamo il manuale di istruzioni dell'essere umano vivendo facendoci tanto del male prendendoci tanti pali subiamo delusioni in amore subiamo lutti subiamo bullismo subiamo subiamo tutti quanti noi nella nostra vita cose che lasciano in noi una cicatrice profonda e non abbiamo però una società che in qualche maniera ci prenda per mano e ci accompagna e che renda ordinario e abitudinale l'essere accompagnati al sanare quelle che sono le ferite che ciascuno di noi ha viviamo in una società che essenzialmente si occupa di farci diventare dei buoni ingranaggi adesso banalizzo un po' però ci spingono funzionalmente corretti nel senso fai il tuo lavoro poi la guarigione puoi anche lasciarla un po' al lato esatto e quindi qua il primo commento che vorrei quindi avere due commenti che vorrei da te il primo è sul concetto di sano malato cioè possiamo finalmente anche tu che sei un medico possiamo iniziare a ragionare nell'ottica di non è una distinzione così netta e tutti quanti noi abbiamo le nostre guarigioni ecco la prima la prima cosa che ti chiedo e no anzi intanto questa qua poi il concetto sano malato per di più a livello mentale è un tema molto controverso nel senso ci sono state tante discussioni su qual è la linea che divide queste due fazioni personalmente io approccio questa questione con il modello dello spettro nel senso ci sono momenti della nostra vita dove siamo più funzionali momenti dove siamo meno funzionali ci sono persone che sono meno funzionali di altre ma la linea dipende da quella che decidi tu in essenza determini tu qual è la linea personalmente ovviamente se un gruppo di persone professionisti in ambito mentale decidono che la linea è questa in un certo senso arbitraria però è quella che va usata più spesso perché ha senso a livello funzionale però a livello proprio ontologico a livello essenziale la differenza è è molto è molto sottile non sì anche perché scusa mi viene in mente per esempio Lacan che è uno psichiatra psicanalista francese che diceva tutto è sintomo non c'è una linea che distingue tra il sano e il malato nel senso ogni cosa che noi facciamo è diretta nei confronti di qualcosa che ha a che fare con con la nostra storia che sì a livello mentale è difficile distinguere tra sano e malato noi facciamo quello che risuona per noi la nostra storia non so se rendo l'idea sì e credo che ci sia anche un altro aspetto che sia quello della stigmatizzazione della malattia soprattutto della malattia mentale per cui se tu chiedi ad una persona ma tu pensi di essere sano pensi di essere malato è difficile per una persona riuscire ad accettare la posizione di dire no ma io ho delle ferite io ho qualcosa da cui devo guarire no come e questo stigma e quindi tante persone questa cosa crea in te un pensiero rigido del tipo io sono sano ma il pensiero dell'etichetta è il problema dell'etichetta questo è un problema intrinseco non credo sia facilmente bypassabile come come problema anche perché l'etichetta è utile a livello funzionale ci permette di fare una diagnosi ci permette di fare una terapia e così via certo il problema quando ti identifichi e quando introduci quell'etichetta nella narrativa che tu racconti a te stesso e comunque sì la distinzione tra sano e malato è difficile da definire e un altro punto dal quale vedere questa cosa è il concetto di stato ordinario e stato non ordinario di coscienza tu sei stato molto attento a evitare la parola stato alterato di coscienza perché è carico perché è carico di giudizi negativi e invece uno degli aspetti centrali che stanno attorno allo studio degli psichedelici e non solo è l'idea che non è che sia dicotomica la cosa non è che c'è uno stato ordinario che va bene e gli altri vanno male assolutamente no ci sono degli stati diversi rispetto a quello ordinario che si possono ottenere con mille modi diversi e questi stati non ordinari possono essere anche migliori rispetto allo stato ordinario perché paradossalmente immaginiamo una persona che si sveglia la mattina beve si fuma una sigaretta inizia a guardare il telegiornale immagazzina tutti i racconti peggiori le cose peggiori che sono successe nel mondo si mette nel traffico nel traffico mentre guida inizia a mandare a quel paese tutte le persone che vede litiga tra quattro persone ancora prima di arrivare al lavoro arriva al lavoro e appena entra dalla porta dell'ufficio dell'azienda già subito inizia ad essere incazzato d'accordo e già le prime interazioni con i propri collaboratori come sempre sono le stesse interazioni che portano questo è uno stato ordinario di coscienza cioè questa persona vive uno stato ordinario di coscienza però per quale ragione io dovrei ritenere questo stato ordinario come funzionale detta in altre parole Nietzsche in un suo libro nello Zaratustra a un certo punto lui parlava di questa di questa figura di questa persona che andava in giro con una lanterna dicendo sto cercando qualche saggio qualcuno saggio ecco utilizzando una utilizzando un po' questa adattando un po' questa metafora noi potremmo andare in giro con una lanterna e dire io sto cercando uno felice dove sono queste persone felici chi è questo felice se questo stato ordinario di coscienza è così importante perché produce così poca felicità e forse e forse allora hai fatto una domanda difficile devo dirlo sì quello che posso dire è che il modo ordinario ha una sorta di gravità ti richiama cioè quell'essere incazzato per il traffico per il collega ha una gravità ti attira in quella modalità quindi in un certo senso possiamo vederlo come un'inerzia nella quale veniamo richiamati e per la quale dobbiamo lottare per andare nella direzione opposta anche lotta è un termine carico non sono esattamente convinto che sia lotta il termine giusto mi piacerebbe vederlo un po' più come una danza non non una resistenza un qualcosa di aggressivo violento più un orientamento corretto nei confronti del mondo ok un atteggiamento giusto che ti spinge nella direzione giusta ti lascia meno egocentrico più connesso l'immagine della danza è potentissima da questo punto di vista sì perché parla di una connessione armoniosa non di lotta che lascia sempre qualcosa di lascia sempre qualcosa di morto mentre la danza lascia tutti e due vivi se possiamo dire certo e la danza prevede un equilibrio tra l'ordine perché la danza non è movimento casuale e caos che è un concetto molto molto importante nell'ambito della malattia mentale anche degli psichedelici diciamo per parafrasare Jordan Peterson che è meglio vivere con un piede nell'ordine è un piede nel caos nel senso abbiamo bisogno di tutte e due questi ingredienti perché se prevale uno diventiamo troppo rigidi poco curiosi del mondo abbiamo quelle abitudini alle quali siamo siamo abituati appunto e nulla cambia c'è una staticità e monotonia importante mentre dall'altro lato se abbiamo semplicemente caos non non riusciamo non riusciamo nemmeno a creare delle drowning non mi viene il termine drowning 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 a foghi esatto esatto a fogare ok a foghi nel caos quindi bisogna capire un po' l'equilibrio giusto e appunto la danza è un concetto che rende l'idea ed è il concetto di equilibrio dinamico la metafora un piede nell'ordine un piede nel caos è la metafora dello yin e dello yang esatto che eternamente si incrociano senza mai annullarsi ma in qualche maniera alimentandosi e creando un dinamismo e potremmo trasportarlo nel parlare di sanità di una società nella capacità di ad esempio progressisti e conservatori di riuscire a trovare un come dire un terreno di dialogo se posso dire gli psichedelici sono uno dei pochi temi nei quali sia la sinistra che la destra sono d'accordo che possono aiutare l'umanità quindi già questo è tanto ok bene questo non ci avevo mai pensato però in effetti sì cioè vuol dire che risuona in categorie della popolazione che magari hanno credenze diametralmente opposte quindi risponde a un bisogno che va oltre queste dicotomie che magari sono anche false se possiamo dirlo e ci aggiungo un'altra distinzione che mi ci fai pensare adesso che è quella che ho indagato più da vicino io io non ho indagato tanto quella politica ma gli psichedelici sono come dire possono mettere d'accordo anche atei e credenti su questo vorrei dire che ci sono stati pazienti che hanno avuto esperienze psichedeliche dalle quali sono usciti e hanno detto Dio esiste felici ci sono stati altri pazienti che sono usciti dalle sessioni psichedeliche e hanno detto Dio non esiste sì sì quindi ritorniamo un po' alla natura paradossa della realtà per la quale anche il concetto yin yang è molto esplicativo e per quanto riguarda invece la questione della religiosità negli psichedelici secondo me la cosa più importante è che ti collega al sacro cioè un sacro non religioso nel senso un sacro come sinonimo di molto importante ecco questo vorrei dire ti collega un po' all'apice della tua piramide e noi abbiamo tutti delle piramide di narrative micronarrative macronarrative che diventano sempre più astratte e la domanda è cosa c'è in alto cosa qual è la mia bussola principale certo quello potrei dire che è il sacro che prende forme diverse a seconda di di ciascuna persona però gli psichedelici appunto ti avvicinano al senso del sacro sì e per quello che ridicevi di questo paradosso dove alcune persone nescono credenti e alcune persone nescono non credenti di un altro dei potenziali rischi dello psichedelico che è quello di essere un'esperienza talmente forte da poter essere e per molte persone ci hanno creduto e molte persone ci credono tuttora al fatto che tu entri in contatto con delle entità che in qualche maniera sono degli spiriti realmente degli spiriti dei demoni mentre appunto se noi rimandiamo aderenti al termine psichedelico lo psichedelico ti mostra i contenuti della tua psiche che poi prendono una forma simbolica che può essere la forma simbolica dell'angelo la forma simbolica del demone ma non possiamo considerarle a mio avviso perlomeno e volevo sapere come la vedi tu non possiamo considerarle delle esperienze mistiche vere e proprie ma in qualche maniera delle esperienze che hanno qualcosa in comune con altri tipi di esperienze col trascendente magari col trascendente ecco forse trascendentale è la parola più appropriata meno carica sì 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 hai nominato un tema molto importante secondo me è quello dell'entità mi viene in mente il DMT con i famosi elfi non so se sei presente sì brevemente diciamo che cos'è la DMT DMT è un è il dimetiltriptamina è uno psichedelico che agisce sui recettori della serotonina è quello che troviamo per esempio nell'ayahuasca e abbiamo visto che le persone che hanno assunto questa sostanza riferiscono spesso di entrare in contatto con queste entità a forma di elfi metà biologici metà robotici e la cosa che mi incuriosisce è capire cosa sono esattamente queste queste entità non posso liquidarle come un'allucinazione semplice perché è ricorrente qualsiasi cosa che è ricorrente vuol dire che c'è qualcosa che va oltre certo e si è visto anche che persone non culturalmente connesse tra di loro vedevano le stesse entità e quindi quando è transculturale un'altra ragione in più per pensare che c'è qualcosa la questione sono reali o no è ancora aperto bisogna anche definire reale e lì apriamo un vaso di Pandora che va non sono preparato per cui neanch'io ma forse qual modello a mio avviso quando io mi sono trovato a riflettere su questo problema il modello che mi sembra quello più utile è quello dell'inconscio collettivo di Jung che è un modello che ci dice delle cose ma resta aperto al mistero Jung non sapeva esattamente cosa fossero gli archetipi che si ritrovavano nell'inconscio collettivo li definiva in diverse maniere in seconda dei libri a me è una definizione che lui dà ad un certo punto che è sempre piaciuta molto è quello di entità psichiche semi-autonome e quindi sono delle entità ci sono sono all'interno della psiche sono semi-autonome nel senso che in parte sembrano essere influenzate dai miei da me da chi sono io dal mio modo di vedere il mondo in parte no come dici in parte hanno delle caratteristiche che rendono tutte simili sì che sono comuni all'essere umano alla condizione umana che va oltre l'individuo esatto che c'è a prescindere sì anche qua c'è il tema ci sarebbe il tema dell'innatismo no cos'è? è dell'idea se l'essere umano è in qualche maniera una tabula rasa o se esiste qualcosa di innato che c'è prima della nascita temi che il quale si entra nella filosofia o dimostrazione di come sia molto multidisciplinare come ambito sì 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 nella filosofia nella teologia a seconda di come uno la vuole da che punto la vuole vedere questa cosa degli elfi meccanici nasce se non erro dal da Tennis McKenna sì che è una persona un con un livello con una capacità comunicativa incredibile che ha parlato molto di psichedelici e suo fratello è ancora attivo nel campo Tennis McKenna sì 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 è focalizzato sui funghi se non sbaglio più che altro credo di sì credo di sì sui funghi allucinogeni e sì interessante Tennis McKenna è importante proprio perché riesce a trovare le parole giuste per descrivere quello che succede nelle esperienze psichedeliche cosa assolutamente difficile perché l'esperienza psichedelica ti fa capire nella maniera più netta possibile i limiti del nostro linguaggio certo il nostro linguaggio descrive quello che vediamo nello stato ordinario di coscienza quindi una visione abbastanza limitata se vai oltre dici non so descriverlo l'ineffabile non sai cos'è non sai come descriverlo e niente per questo era era importante McKenna sì McKenna appunto che uno condividono condividono le sue idee perché poi lui si lancia in speculazioni molto spinte l'apertura di cui parlavamo sì esatto esattamente lui parla dell'oggetto trascendentale al di là del tempo cioè si forma tutta una serie tutta una filosofia sua che ha delle basi empiriche insomma perlomeno discutibili ecco però la capacità di una proprietà di linguaggio pazzesca un'altra un altro tema che mi pare di capire ti appassiona sul quale volevo un attimo in un commento da parte tua che che in esso c'è tra psichedelici e meditazione cosa cosa ci dici della meditazione la pratichi da un punto di vista medico che tipo di benefici può portare sì allora la meditazione possiamo definirla come qualsiasi attività diretta nella contemplazione dell'attività mentale nostra ci sono varie tecniche della meditazione però l'essenza è questa cioè noi contempliamo quello che sta succedendo nella nostra mente posso collegarlo con il concetto di decostruzionismo che è ricorrente anche negli psichedelici cioè più si medita più scivolano via quelle che nel buddismo vengono definite menzogne che sono molto collegate con l'egocentrismo per fare la sintesi pensiamo proprio al fatto che la menzogna principale di cui parlava Buddha è che esiste una differenza tra mete e da questa menzogna nasce l'ego questo è il seme del male secondo il buddismo che è anche quello che noi proviamo quando prendiamo gli psichedelici cioè si si sgretola questo limite tra me e tutto ciò che non è me l'altro una differenza importante tra meditazione e psichedelici è appunto il fatto della tempistica c'è un'analogia che a me piace possiamo pensare alla verità quella che noi cerchiamo con queste esperienze come una vetta di una montagna la meditazione è un pellegrinaggio progressivo graduale costante verso questa vetta nella quale tu impari anche come camminare verso questa vetta con gli psichedelici possiamo pensare a un giro con un elicottero che ti manda lì in cima alla vetta e poi ritorni alla base la cosa importante degli psichedelici appunto è che ti fa capire che esiste una vetta ritorniamo al concetto del sacro esiste qualcosa che va oltre abbiamo bisogno noi esseri umani di qualcosa che va oltre oltre i sensi oltre l'ordinario e la meditazione appunto ti permette di farlo questo in modo più graduale però devo dire che anche questa come attività ha dei rischi che sono intrinseci a qualsiasi processo di decostruzionismo perché ti lasciano come dicevo prima scoperto finché emerge qualcosa di più duraturo di più vero magari quello che ti resta è semplicemente il fatto che la menzogna non ti regge più e questo è un po' il concetto generale della meditazione un'altra analogia che potrei fare tra meditazione e psichedelici io avrei una cosa da proporti una linea di pensiero c'è una parola pregna di significato talmente pregna di significato che a volte si fa fatica ad utilizzarla è una parola che però ricorre molto nell'utilizzo degli psichedelici nelle esperienze mistiche negli stati meditativi e volevo capire se questa parola secondo te può trovare una collocazione anche nel mondo in ambito scientifico o perlomeno nelle nostre riflessioni è la parola amore perché perché questo l'esperienza dell'amore l'esperienza dell'amore inteso come mi sento un tutt'uno con l'amore stesso mi sembra un'altra delle cose che tiene che tiene che unisce una parola che unisce però è anche una parola tanto abusata e che forse a volte abbiamo un po' paura di utilizzare quindi se io ti dico amore cosa dici tu? posso dire che prima ero molto scettico quando sentivo la famosa frase love is the answer l'amore è la risposta però più passano gli anni e più ci credo quando parlo di egocentrismo con la visione molto limitata che ci permette di sopravvivere se immaginiamo questa direzione dal lato opposto secondo me c'è l'amore sono diametralmente opposte o ti dirigi in una direzione o all'altra non puoi fare entrambe le cose è un po' anche quando si dice devi scegliere tra amore e potere è una via che ti rende vulnerabile ma che ti rende connesso a ciò che ti circonda mentre l'altra è quella che ti rende difeso ti rende egocentrico ti rende disconnesso e decontestualizzato sì hai visto il film Interstellar? sì ok in Interstellar che è stato scritto grazie al contributo di Kip Thorne che è premio Nobel per la fisica nel 2017 per cui ci sono delle basi di fisica teorica chiaramente perché non sappiamo esattamente cosa succede in un buco nero però in un episodio proprio del podcast ho avuto il piacere e l'onore di ascoltare Luca Nobili un podcast meraviglioso e lui raccontava di come una delle teorie o forse ne ho parlato con Pietro Calore in un altro podcast non mi ricordo con uno di due scusatemi ecco perché so che ascolteranno quindi chiedo scusa non mi ricordo con chi di due ho parlato di questa cosa però dell'idea che l'amore si potrebbe anche scoprire un domani essere una forza fisica che in qualche maniera risponde una delle forze fondamentali della fisica che in qualche maniera risponde ad esempio ad alcuni concetti che si vedono nella natura quantistica nella meccanica quantistica è quello che viene spiegato in Interstellar dove a un certo punto lui quando entra nel buco nero e quindi si trova nella singolarità e quindi si trova in una situazione nella quale è al di fuori o al di dentro non lo so comunque è separato dallo spazio e dal tempo d'accordo e fondamentalmente lui sa che sua figlia andrà a trovare quell'orologio lì che è necessario per salvare il mondo perché perché nonostante lui sia all'interno di una singolarità c'è questa forza che assomiglia appunto all'entanglement quantistico che è la forza dell'amore che travalica che va al di là dello spazio del tempo degli stati stessi dell'esistenza perché tu puoi amare anche una persona che non c'è più che non fa più parte di questa realtà fisica e quindi mi sembrava parli della scena del tesseract dove muove il libro se non sbaglio perché è da anni esattamente lui muove la lancetta dell'orologio e parla con l'intelligenza artificiale lui dice io mando le informazioni che doveva mandare per salvare appunto il pianeta e l'intelligenza artificiale dice ma tu come fai a sapere che tua figlia andrà a prendere questo l'amore lui dice l'amore perché l'amore lui in quel momento lì lui che è uno scienziato lì un ingegnere quindi è proprio una mentalità estremamente scientifica in quel momento lì lui fa questa maturazione questo salto questo salto d'accordo nel quale lui capisce che questa forza potentissima che è l'amore è una forza che ha di fatto un corrispettivo nel mondo della fisica credo che sia con Pietro non ricordo uno con uno di due ne ho parlato andate a ascoltarli tutti e due così va bene allora ti volevo chiedere un'altra cosa poi non voglio abusare troppo della tua pazienza del tuo tempo però vorrei che mi raccontassi un po' perché io ti ho conosciuto insomma ho visto prima di conoscerti personalmente un tuo TED Talk che consiglio a tutti di guardare perché in due minuti non so quanto duri in due minuti in otto minuti che volano uno dei TED Talk migliori che abbia mai sentito hanno sentito di tanti forse il migliore quello di sicuro che ha catturato più la mia attenzione nel quale in otto minuti riesce a veicolare una quantità di informazioni con una capacità di 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 utilizzo del logos inteso come la parola che crea significato pazzesca quindi consiglio comunque di andare a vederlo e tu lì in questo TED Talk parli del fatto che tu già a 15 anni se non sbaglio hai avuto un'esperienza forte con la meditazione e vorrei che mi raccontassi un po' premesso che sarà ineffabile come esperienza ma che cosa hai provato che cosa hai provato e che ruolo ha avuto questa esperienza nel tipo di vita che stai vivendo ora sì allora era se non sbaglio la seconda o terza volta che io meditavo a 15 anni ammazza e praticamente stavo meditando e da un momento all'altro quel buio che noi vediamo quando chiudiamo gli occhi è diventata luce molto calorosa il dialogo interno che di solito continua nella nostra mente si è fermato e ha lasciato spazio a un a una sensazione di benessere non ordinaria sicuramente rientra in quell'esperienza che viene definita come JANA J-H-A-N-A che sono delle esperienze apice durante la meditazione e quella è stata l'esperienza secondo me che mi ha fatto capire uno che ci sono cose che vanno oltre e due che la mente è davvero potente che la sfruttiamo in un modo molto limitato magari non sfruttare in termini anche questo carico godiamo godiamo della nostra mente in modo molto limitato possiamo godere molto di più della nostra mente e non subirne la propria presenza e si ha aperto ha aperto un po' il mio viaggio verso tutto ciò che va oltre e ed è stato un viaggio che quando l'ho intrapreso ho conosciuto anche gli psichedelici come un altro modo per instaurare questi stati diciamo che mi ha cambiato perché mi ha reso meno legato al mondo esterno però anche qui bisogna sempre fare tutto in modo equilibrato cioè ci sono stati momenti tipo mi ricordo i primi due anni di medicina quando ero arrivato in Italia molto confuso paese nuovo avevo lasciato casa tutto da capo molto caos avevo bisogno di un ancora questa ancora è stata la meditazione mi ricordo ci sono stati periodi in cui meditavo anche due ore al giorno avevo un benessere molto grande che però in retrospettiva potrei definire parzialmente come quel fenomeno che viene chiamato spiritual bypassing è un evitamento della vita attraverso queste pratiche il problema è che con queste pratiche tu pensi di star addomesticando l'ego ma ti scordi che ci sono back doors non so non mi viene in italiano back doors sono delle porte sul retro delle altre modi altri ingressi sì 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 e nella meditazione può succedere questo che tu pensi di addomesticare l'ego quando in realtà è l'ego che sta alimentando questo stesso processo e ti senti illuminato ti senti molto più superiore rispetto agli altri esseri normali che non sanno di queste verità bellissime questi poveretti inconsapevoli e no comunque è stato un periodo dove meditavo tanto mi ricordo per esempio all'esame di anatomia un esame per il quale ho studiato tipo cinque mesi in quel periodo ho meditato più più tempo il più tempo possibile sì e mi ricordo per esempio all'esame dove la maggior parte delle persone erano tutte ansiose magari anche tremanti e io zen totalmente zen e il mio amico che mi chiede ma scusa ma stai facendo l'esame o stai andando a fare la spesa non non c'era più reazione non c'era più reattività l'attaccamento sì sì era tutto un fluire costante che poi ho perso col passare degli anni e con l'aumento delle responsabilità e mansioni quotidiane e credo confermami o dimmi se sbaglio però credo che chi faccia un'esperienza forte come quella che hai fatto tu in qualsiasi maniera la faccia o qualsiasi nome dia a questa esperienza poi ti trovi a a vivere una vita nella quale la vuoi la vuoi la vuoi cercare è talmente bello quello che vivi che dedichi decidi di dedicare una vita a cercarlo una vita dedicata a cercare quella cosa lì non è una vita sprecata in qualche maniera no sì diventa diciamo che una volta che apri quella porta ti chiama ti chiama ti chiama non puoi farne a meno perché sai che esiste lì ti cambia ti cambia la traiettoria di vita letteralmente che libri che libri che libri ci consigli hai qualche testo qualcosa qualche studio qualcuno che ascoltasse questa puntata e volesse in qualche maniera approfondire che cosa potremmo cosa potrebbe fare da dove potrebbe partire qualche video su youtube non so allora il libro di michael pollan sì how to change your mind come cambiare la tua mente la serie che hanno fatto su netflix sugli psichedelici sì molto fatta bene e poi se qualcuno ha interesse e vuole approfondire magari in aspetti più tecnici ci sono i libri di giorgio samorini terapie psichedeliche che consiglio a tutti i professionisti del settore se vogliono avere proprio un approccio professionale alla questione e questi libri come introduzione sono un buon punto di partenza poi in descrizione metteremo magari il link a qualche studio va bene per chi volesse un po' approfondire l'aspetto più diciamo di ricerca e tecnico rebus sicuramente ecco ok perfetto metteremo metteremo qualche link io l'ultima parola che ho da dire in questo podcast pieno di parole dense di significato la parola grazie grazie io ringrazio te per essere venuto qui in questa giornata uggiosa aver fatto questo viaggio ti ringrazio di cuore perché è stata una chiacchierata bellissima per me ed è per me veramente qualcosa di importante riuscire a discutere di questi temi con questa tua attitudine così professionale così competente ma anche così calda così umana così appassionata quindi ti ringrazio di cuore e ti auguro il meglio ciao e alla prossima ciao a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti